Io voglio partire facendo un applauso al Genoa che ha fatto veramente una partita fantastica. Il Genoa ha fatto una signora partita e per l'ennesima volta si è dimostrata la bestia nera della Juventus. Proprio per come l'hanno interpretata, come hanno giocato soprattutto nel periodo in cui sono stati in inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo prima dell'espulsione di Rabiot che oggi era entrata anche bene, aveva fatto delle robe belle, magari per il derby avrebbe potuto dare quel contributo importante, invece niente, è stato espulso giustamente perché ha fatto due falli da giallo e ci mancherebbe altro. Ancora una volta si è dimostrata la bestia nera della Juventus che è riuscita a vincere con un gol su rigore al 94-95, quello che fortunatamente ci stava, direi che il giocatore del Genoa ha effettivamente preso Cristiano Ronaldo che poi ovviamente un pochino di modalità Mertens la metti, però in effetti il contatto c'è stato e secondo me era rigore, ma questo poi ovviamente lo vedremo meglio domani e fortunatamente siamo riusciti a vincerla, però anche se la Juventus non avesse vinto, cioè onestamente io avrei avuto poco da dire per quanto riguarda il risultato, avrei soprattutto sottolineato quanto la Juventus sia strolla e l'ha sempre dimostrato, comunque su questo non ci piove, però ci sarebbe stato effettivamente ben poco da recriminare vedendo soprattutto la partita che ha fatto il Genoa, che certo per carità ha trovato il gol da quel tiro lì un pochino allegro, diciamo così, dico a me quest'anno ci va così, o rigori contro, o euro goal, o sti gol qua, ma va bene, fa parte del calcio, soprattutto se poi fai una roba che nelle scuole calcio ti insegnano di non fare, perché per carità il gol di qua me è stato quel che è stato, buffoni, incolpevole, cioè alla fine quello lì è un gollonzo, quello è un gol che potrei fare io diciamo al calcetto, perché sono storto, è un gol che potrebbe fare matuidi, ecco diciamo perché è storto, però se tu, Alessandro mio bello, mi vai a combinare un lavoro del genere facendo la prima cosa che ti insegno in una scuola calcio, ovvero di non darle al centro, soprattutto in determinate posizioni, perché potrebbe essere anche controproducente, per quanto tu poi sia stato sfortunato, o qua me particolarmente fortunato, e te le vai anche un pochino a cercare, diciamoci la verità, ma per il resto la Juventus sì ha fatto sicuramente la partita, perché il Genoa appunto oltre a quel gollonzo non si può dire che abbia fatto tanti tiri in porta, certo ha fatto un tiro all'inizio con Pinamonte mi pare, ha fatto poi un tiro da punizione con Cione, però nel senso, certo parate che potrebbero essere sempre anche sbagliate, però non si può parlare di questi tiri pericolosi, mentre invece vedete, a proposito di Bernardeschi, oggi io fondamentalmente non ho tanto da recriminare, non ha fatto la partita perfetta, non ha fatto la partita da dire sei stato uno dei migliori in campo, però sicuramente non tanto magari nel primo, ma nel secondo tempo, cosa gli posso dire? Bravo Bernardeschi, ha sbagliato alcune cose come delle ripartenze con dei passaggi osceni, soprattutto uno che, vabbè, lasciamo perdere, però nel senso poi ha fatto diversi tiri pericolosi, ha fatto diverse azioni e diverse cose buone, quindi oggi Bernardeschi, bravo, ti stringo la mano, anche perché poi è tornato Rams, è tornato Douglas Costa, finalmente, oggi altra bella prestazione di Dybala, peccato solamente per il gol che non è riuscito a trovare, però molto spesso ci è andato vicino, molto spesso per diversi momenti della partita è stato l'uomo realmente pericoloso della Juventus, bene Cristiano Ronaldo è solamente per i gol, mi viene da dire, il primo annullato, però ci puoi far poco, era fuori gioco, poi fortunatamente su rigore che si è procurato anche lui, tra l'altro 5 gol in 8 partite con anche 3 gol annullati, non si può dire oggi che sia stata una bella Juventus, che sia stata una bella partita, oggi molto sotto tono, magari per via della stanchezza, magari per via della pioggia, magari per via anche di alcuni cambi, però non si può dire che sia stata una bella Juventus, anche perché no, per meriti del Genoa, perché giustamente ho iniziato elogiando il Genoa e c'è anche un avversario in campo, quindi anche per meriti del Genoa sicuramente non si può dire che sia stata una bella Juve, e non si può dire che sia stata una delle partite più belle della stagione, quando soprattutto poi sulla carta sembrava una vittoria, non dico facile, perché non è mai facile, soprattutto quando giochi contro la bestia nera, però comunque non mi aspettavo sicuramente una vittoria al 95esimo su calcio di rigore e magari mi aspettavo anche che la Juventus riuscisse a trovare il gol un pochino prima, soprattutto quando poi era appunto in superiorità numerica, mentre invece l'abbiamo trovato il gol di vantaggio in parità numerica, quindi nel senso almeno quello, però guardate, quando ci sono queste partite che ti tolgono l'anima, ti dici oh dai abbiamo vinto a posto, soprattutto poi pensando che le prossime due saranno contro il Toro in trasferta e contro il Milan che mai dire mai, perché noi abbiamo questo talento di riesumare alcune squadre, quindi mai dire mai è sempre il Milan, queste sono sempre partite a parte, poi vorrei aprire una parentesi Rugani, mentre invece non lo farò perché mi hanno tolto l'anima anche per gli insulti oggi, quindi dico solamente che se ci sono Bonucci, De Ligt, De Miral e Chiellini, anche infortunato davanti a lui, un motivo c'è e direi che oggi si è visto, poi si può sempre dire che è stata la prima partita della stagione, sì va bene, ma anche no. E niente, ci vediamo domani perché potrebbe essere, secondo me è un video abbastanza corposo, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!